buongiorno oggi 10 agosto siamo 1500 metri di altezza siamo partiti da 1200 sembra che non ci sia nulla abbiamo trovato solo due piccoli dieci giorni fa sull'altro versante alla stessa altezza qualcosa avevo trovato poi sono stato al mare tornato ieri ho detto già proviamo sull'altro versante che è quello che in genere mi piace battere di più ma non sta dando risultati dato che un po' presto ancora sono le 9 del mattino provo a fare ancora un giretto qua dopo magari mi sposto sull'altro versante va bene spero di rivederci dopo sempre sui 1600 ma ci sono in giro qualche qualche persona la sento voi cani però veramente poca roba adesso un altro piccolino qui bellino vicino al sasso nel bocciotto però mi sembra ancora presto questo lo lasciamo qua questo purtroppo andato questo lo prendiamo forse spostandoci un po si inizia a vedere qualcosa qui c'è un altro minuscolo che sta uscendo questo è proprio bello però se ci vogliamo bene qua è tutta roba piccolina a parte quello lì di prima che peccato tutto niente pazienza pazienza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il gambo è andato. Il gambo è andato. Andiamo a recuperare la belva. Allora mi ammazzo. Proprio sulla valle. Che bello. Porca vacca. Facciamo una foto. Bellissimo. Proprio sulla valle. Wow. Che bello. Stupendo. Sotto la roccia. Un bel porcino. Allora. 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 Sotto. Diciamo. Un po' di posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.